Vi dico l'intuizione. Il termine tensione lo assumerei con voi da un maestro della vita come tensione, ovvero desideri un dèi, che è Sant'Agostino. E rispetto ad Agostino, l'intuizione che vi do della definizione di tensione la potete trovare nel suo grande libro De Trinitate, nel libro quindicesimo ai numeri 1-2 o nel sermone su San Giovanni, il 63, al numero 2. In questi due testi Agostino dice più o meno questa cosa. Per capire la vita come tensione, specialmente rispetto al mistero, io devo analizzare la dialettica di cercare, trovare oppure invocare, abitare. La dialettica di cercare, trovare. Agostino continua a ripetere che io non ti cercherei se non t'avessi già trovato. Ma quando ti trovo e ti scopro incomprensibile, si accende l'ardore di cercarti ancora. Tant'è che il salmista dice cercate sempre il volto del Signore. E Agostino si chiede perché devo cercare sempre, perché non trovo mai nulla, perché ciò che trovo è falso, perché non trovo mai soddisfazione. No, risponde Agostino, devo cercare come uno che trova e devo trovare come uno che quando ha finito è allora che gli viene voglia di ricominciare. E sentite questa bella tensione. Perché è istruttiva questa tensione di Agostino? Perché ci dice che nell'esperienza religiosa, sicuramente in quella cristiana, l'attenzione della ricerca è legata al possesso di un bene incontenibile eppure promettente. Come le tre religioni monoteistiche interpretano questa esperienza, è una sfida interessantissima nel dialogo tra religioni. Vi dicevo, l'altro testo, Confessioni, il libro primo, traduce la tensione tra cercare e trovare col tema dell'invocazione. Quando Agostino, rivolgendosi ancora a Dio, dice io ti invoco, ma se ti invoco lo faccio perché tu venga nella mia vita, ma io non ho nella mia vita un luogo in cui contenerti e in cui ospitarti. Allora perché ti invoco se io non ti posso ospitare? E Agostino risponde, io alla fine ti invoco perché tu mi stai attirando a te. E allora io ti invoco non perché tu abiti in me, ma perché io possa abitare in te in un modo nuovo. È interessante questa dialettica del cercare perché si è stati trovati, dell'invocare perché si è stati visitati. Ecco, ancora una volta è interessante questo scambio tra una pienezza che ci precede, ci fonda, ci chiama, ci attira e la tensione. Traduco in una parola e poi procedo. Se dovessi tradurlo in una parola vi direi, la tensione nell'esperienza religiosa non è determinata da un vuoto che deve essere riempito, è determinata da una promessa e da una promessa di pienezza che continuamente rigenera se stessa. Diceva un grande psicanalista, Jacques Lacan, che è una delle grandi sfide dell'uomo, è quella di rigenerare il desiderio, non a partire da un vuoto, ma a partire da un'esperienza di gioia, lui direbbe di godimento, in francese jouissance, lui giocava con le parole jouir, gioire, sens, dando del senso alla realtà. È un godimento che dà senso alla vita. Chi vive la tensione, chi sperimenta un godimento, chi fa un'esperienza di pienezza che dà senso alla vita e apre cammino. Rispetto a questa intuizione, la tensione non è un vuoto da riempire, la tensione è la promessa di una pienezza che apre cammino. E questa è la forma della fede. Rispetto a questa formulazione della tensione, l'intuizione agostiniana, io vi propongo anzitutto un'immagine che ci dice il rapporto tra cristianesimo e Israele e che ci permette una precisazione rispetto al mondo islamico e musulmano. L'immagine la cito da un articolo del professor Bruno Forte che riprende una lettura dei padri, è quella dei due esploratori di Israele che, avendo trovato i frutti nella terra promessa, caricano questo grappolo d'uva enorme su un legno e si mettono a correre verso Mosè. Vi leggo. Giunsero fino alla valle di Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portarono in due con una stanga e presero anche melograni e fichi, numeri 13-23. Commenta il professor Bruno Forte. Nell'asta, portata dai due, i padri della chiesa hanno voluto vedere il legno della croce da cui pende Cristo, mentre nei due portatori, uniti e separati da quel legno, hanno riconosciuto Israele e la chiesa. In quanto essi marciano l'uno dietro l'altro, chi precede guarda solo davanti a sé ed è perciò figura di Israele, popolo della speranza e dell'attesa delle cose venienti e nuove assicurate dalla promessa di Dio. Chi viene dietro vede invece colui che gli sta davanti e l'orizzonte da questi abbracciato attraverso il grappolo appeso al legno ed è perciò figura della chiesa, che ha in Cristo crocifisso la chiave di lettura anche dell'antico Israele e della promessa fatta ai padri. Col mostrare la differenza, l'immagine afferma non di meno la continuità che esiste tra i popoli, non solo per il legame dell'unica asta che entrambi gli esploratori sostengono, ma anche per l'orizzonte comune cui si rivolge il loro sguardo. Non so se riuscite a apprezzare l'immagine, è bello pensare che i cristiani ed ebrei non sono due realtà o due popoli alternativi, ma sono due figure impegnate nello stesso cammino storico verso il compimento. Israele non ritiene di aver incontrato il Messia, ha solo i frutti sperati della terra promessa da inserire nella storia camminando ancora verso il futuro. Invece i cristiani ritengono d'aver già incontrato il Messia, d'avere il grappolo d'uva, quello delle nozze di cana, dell'ebrezza escatologica e di camminare con Israele verso il compimento della storia, ma già con il pegno certo della bontà dei frutti della terra. Tutte e due camminano. Vi leggo, per completare e intuire la differenza, un curioso intervento di Martin Buber che fece, verso la fine della sua vita, in un colloquio con dei cristiani e in particolare dei teologi, quando gli diceva, miei cari amici, qual è la differenza tra voi cristiani e me? Entrambi, tutti noi qui, crediamo, essendo religiosi, nella venuta del Messia. Voi credete che il Messia sia venuto, tornato indietro e aspettate che ritorni una seconda volta. Noi ebrei crediamo che il Messia non sia ancora venuto, ma che verrà. In altre parole, stiamo aspettando. Voi che giunga per la seconda volta, noi per la prima. E allora, diceva Buber, aspettiamo insieme. Fece una pausa, poi continuò. E quando verrà, gli chiederemo, sei già stato qui prima? Buber sorrise e disse, in quel momento spero di potermi trovare dietro di lui e di potergli sussurrare in un orecchio, per favore, non rispondere. È un detto bellissimo, l'arguzia del popolo ebreo emerge tutta. Un ebreo direbbe, noi due camminiamo, abbiamo la tensione verso il compimento, voi perché ritenete d'aver pregustato la meta? Noi perché riteniamo di non averla ancora pregustata? E allora, direbbe Buber, il Signore non deve rispondere, se è già venuto, perché il compimento della tensione è indisponibile, è solo nelle mani di Dio. Nessuno deve poter dire, ma io lo sapevo già. E qui sentite le differenze irriducibili tra la fede di un cristiano e la speranza di un figlio di Israele. Perché la fede di un cristiano ritiene di non poter rinfacciare agli altri, io lo sapevo già. Però il cristiano cammina animato da una certezza ed è la certezza d'avere già incontrato il Messia. Non è un cammino solo nella speranza, è un cammino nella grazia. Non è solo un'attesa, è già una pregustazione. Nel commento ai sei giorni della creazione, Sant'Ambrogio di Milano, sul finale, ha una riflessione bellissima, quando dice Dio ha creato degli esseri meravigliosi, ma non ho mai letto che si è riposato. soltanto quando ha creato l'uomo Dio si è riposato. E che cosa vuol dire che si è riposato? Che l'ha dovuto perdonare, cioè ha dovuto aspettarlo. Io trovo interessantissima questa notazione di Ambrogio perché ci sembra dire per un cristiano perché Dio mi mette in attesa? Perché lui stesso si è messo in attesa attraverso un'esperienza di perdono. Dunque il cristiano con la grazia non possiede qualcosa. Ha sperimentato l'attesa di Dio che lo esorta ad aspettare. Ha sperimentato la pazienza di Dio che lo esorta a vivere una tensione nella pazienza pregustando i suoi doni. Se dovessi riassumervi che cosa vi ho detto, per un figlio di Israele la tensione religiosa è promessa e memoria. Faccio memoria della promessa di Dio e aspetto un compimento che non è venuto e aspetto in una tensione infinita perché la fedeltà di Dio è indisponibile. Per un cristiano più che promessa memoria è pregustazione e desiderio. C'è stato un incontro con Dio in Gesù Cristo che ha aperto il desiderio, c'è stata una pregustazione che ha aperto il cammino. Questa pregustazione non è un possesso, è l'esperienza della pazienza di Dio, della sua attesa che ci attira e ci invita ad aspettare. Facciamo il passo nel mondo islamico. Per il mondo islamico come funziona questa tensione funziona come islam, come sottomissione a kalimat Allah, alla parola di Allah incarnatasi nel Corano, discesa verticalmente dal cielo nella profezia di Mahometto. Qual è la tensione? È quella a costruire la comunità ideale che obbedendo alla volontà di Allah mette nella storia l'ordine che Allah voleva. La tensione si traduce nell'obbedienza nel presente alla parola di Allah. Vi leggo il testo di uno studioso dell'Islam, il professor Rizzardi Giuseppe della Facoltà Teologica di Milano, semplicemente per darvi l'intuizione di questo funzionamento del discorso religioso. L'Islam si ritiene la comunità, l'Ummah, che sullo scenario storico si assume il compito di mettere nella successione dinamica degli eventi gli imperativi della parola eterna di Allah. La differenza tra una qualsiasi fede nella trascendenza e la fede specifica in Allah che comunica la sua parola sta nel fatto che grazie alla parola coranica la storia comincia a muoversi dentro un ordine civico-sociale trascendentalmente garantito. Voi sentite perché la preoccupazione di un musulmano non è l'amore ma è la giustizia. La preoccupazione di un musulmano non è ciò che noi cristiani chiameremmo la carità ma la verità dell'ordine cosmico voluto da Allah nel patto eterno con Adamo, quell'ordine cosmico che nella mia sottomissione alla parola coranica io posso realizzare nella storia. Io mi spongo spesso la domanda, certo l'Islam sciita conosce il Mahdi, questa figura messianica che deve venire, ma il mondo islamico conosce una promessa che crea un dinamismo nella storia? Io non ritengo che conosca una promessa, conosce un ordine cosmico che chiede sottomissione. Conosce lo sforzo di creare una comunità, una società capace di iscrivere quest'ordine nella storia. Dunque non tensione, non promessa ricordo, non pregustazione desiderio ma obbedienza a un ordine da realizzare nel mondo. E la forma originaria di questa obbedienza, la sha'ada, è riconoscere che Allah è l'unico Dio, non ve ne sono altri e Muhammad è il suo profeta. La forma della obbedienza alla parola. Cerco di dare una prospettiva su queste tre attenzioni. Se dovessi cercare di dire che cosa caratterizza la tensione della vita nelle esperienze religiose dei tre monoteismi, io vi darei questa definizione su cui mi piacerebbe dialogare poi con voi. È l'esperienza del sacro, fondamentalmente. E cos'è il sacro? È una presenza incontenibile, eppure promettente, che apre cammino. Per Israele questa presenza incontenibile che apre cammino è una promessa da ricordare affidandosi alla fedeltà di Adonai. Per un musulmano questa presenza incontenibile che apre cammino è l'ordine cosmico voluto da Allah che io devo concretizzare con l'obbedienza coranica nella comunità ideale. Per un cristiano questa presenza incontenibile è l'incarnazione di Dio, questa presenza sacramentale eucaristica che pregusti e apre il desiderio. Qualunque sia la prospettiva, la sfida delle religioni è c'è tensione nella vita quando hai gustato, percepito nella tua vita una presenza incontenibile eppure promettente che apre cammino. Io chiederei a molti tra voi, a persone sposate, che cos'è l'amore. Non è una presenza incontenibile che diventa cammino? Oppure pensate a quella parola terribile figlio, figlia. Non è una presenza incontenibile che apre cammino? Tutte le più grandi esperienze della vita hanno la forma di una presenza incontenibile che apre un cammino perché è promettente. Sarebbe bello, ma il tempo sta scadendo, farvi vedere come nella tradizione medievale i sensi della scrittura, il significato storico, allegorico, anagogico, tropologico realizzassero questa dinamica in qualche modo. Allegoria, alla agorizzo. Dico qualcosa d'altro mentre dico queste cose perché c'è una presenza incontenibile. Allora c'è anagogia, again, ana, portare oltre. Questa presenza incontenibile mi apre un cammino e mi fa andare oltre. Ma io posso andare oltre elemento tropologico se sono disponibile alla conversione, al cambiamento. E l'elemento storico io posso camminare se con Agostino scopro che Dio c'era già. È l'esperienza del sacro. Spero di avervi fatto intuire come diversamente questa esperienza del sacro, una presenza incontenibile ma promettente che apre il cammino, è realizzata nei tre monoteismi. Allora gli ultimi cinque minuti, il confronto con ogni forma di utopia laica, tra virgolette. Qual è la differenza rispetto all'utopia laica? Forse è precisamente la percezione che la figura radicale della speranza è utopos, il non luogo. Cioè, diciamolo in maniera dialettica. Una percezione laica della vita si apre alla speranza nella misura in cui può negare il bene nel presente, nella misura in cui percepisce una mancanza, un limite, un difetto che mi porta a negare il presente per aprirlo a un oltre. La filosofia della speranza, la dialettica dell'illuminismo della scuola di Francoforte, a volte diceva che bisogna coltivare la nostalgia del totalmente altro. Questa è la forma della tua tensione nella vita, quella nostalgia del totalmente altro che ti porta a negare il presente perché è limitato, schiavizzante, inautentico, aprendoti a un desiderio di un'alterità. Posso davvero negare il presente? Non è la speranza un'esperienza che si apre per la percezione della ricchezza del presente? Di fatto, rispetto a questo funzionamento dell'utopia laica, oggi viviamo forse, nell'epoca di internet, della rete, di possibilità infinite, un'altra tentazione utopica. E la tentazione utopica è quella della sovrabbondanza di possibilità nel presente che mi impediscono di immaginare un futuro. Io non mi sento chiamato a immaginare un futuro, ma mi sento chiamato, accendendo internet, a esplorare le infinite possibilità del presente. Il problema per il soggetto diventa una sfida enorme. Io posso diventare io un'identità, una persona, se non progetto un futuro, ma semplicemente colgo tante opportunità nel presente? Io posso chiudermi nel presente? Perfino Johann Baptist Metz, il grande teologo della teologia politica dice, la mia teologia politica è stata sconfitta perché noi abbiamo coltivato la società dell'amnesia, della dimenticanza. Nietzsche diceva, solo chi ha sofferto deve ricordare. Beato chi non deve ricordare nulla perché non ha sofferto e ha davanti miliardi di possibilità nella vita. La grande sfida dell'uomo moderno. Ecco, potremmo dire l'uomo che è così immerso nelle possibilità del presente che non vive più una tensione verso il futuro, ma la dispersione nelle potenzialità attuali della rete. Ecco, questa è un'altra forma di utopia, l'utopia della tecnica. L'utopia della rivoluzione, la nostalgia del totalmente altro, l'utopia della tecnica, le infinite possibilità del presente che non mi chiedono di ricordare perché non ho sofferto, non mi chiedono di immaginare il futuro perché non ho mancanze o possibilità infinite, queste forme di utopia laica pongono la grande sfida. Può l'uomo costruirsi un'identità se non ha una tensione che apre il presente al futuro? E questa è la sfida della fede. Chi sono i credenti? Coloro che nella fede gustano una presenza incontenibile promettente che apre continuamente futuro e gli dona una grande identità nel cammino. Qualche sociologo americano qualche anno fa parlava della crisi della modernità come la crisi dell'io minimo. L'io minimo è quella strategia dell'io, dell'io consumatore che non riesce più a identificarsi nel presente con dei beni che durano e quindi fa fatica a immaginare un'identità forte. Cambia come cambiano i suoi prodotti che nel giro di pochi anni diventano spazzatura. Io non posso identificarmi con nessun bene duraturo. La strategia dell'io minimo porta l'uomo a non progettare un senso sulla distanza perché non ci sono dei beni che realizzano una presenza promettente che apra futuro. Un mio nipote mi diceva, zio, ma tu che macchinai? Dico, pensa a un appunto di tre anni e mi guarda con la faccia piena di disprezzo dicendo un appunto. Che auto vecchia? Voi sentite come nel mutare così rapido dei beni una persona non riesce a identificarsi coi beni di cui vive per cui la domanda diventa ma nel presente io percepisco ancora una presenza incontenibile promettente che apre futuro o tutto deve mutare in fretta e io che dischiudo infinite possibilità della vita ma non mi identifico con più nulla. Ecco, la sfida, se volete, che volevo comunicarvi è questa. In forme diverse i tre monoteismi coltivano con la fede un gusto del presente che apre una grande speranza. Una visione laica della realtà è capace di raccogliere questa sfida?